fai il tuo turno, fai le tue ore, fai il tuo lavoro, dopodiché una volta che hai finito di fare tutto dici ok benissimo io da oggi non vengo più, oppure cercate di cambiare le situazioni, quindi quello che il comportamento che hanno avuto Neyomi e Sasha Banks non mi sembra un comportamento maturo, poi parliamo di persone che comunque Sasha Banks è un anno più grande di me, quindi se non mi sbaglio è 92, parliamo di una trentenne, cioè non è che parliamo di persone bambinesche, parliamo di un'idea, insomma dove, ah un tanto bella, quindi dispiace un po' per questo, licenziarle ti dico di no semplicemente perché siamo all'interno del wrestling, so anche che su Twitter avrò un contatto di Neyomi sui fatti, non ancora controllo niente. Posso dire la mia? Ma orimai intanto dice, aspetta un secondo, hanno sbagliato il modo se devi protestare e farlo dopo ma comunque non li licenziano secondo me, e fu così che, vai prof, di la tua. Secondo me loro hanno sbagliato, secondo me loro hanno sbagliato, ci sono finite le carte? Sì, erano 13, proprio piccoli, è un mazzottino velocissimo. Ok, 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 ok. Secondo me loro hanno sbagliato, hanno sbagliato, se non è un work ovviamente come dice Joda. Joda crede sia un work, guardate io non penso semplicemente perché è stato fatto un comunicato stampa da parte del sito ufficiale della WWE, dove la WWE dice di offrire un prodotto televisivo scriptato, e se la WWE se ne esce così, non credo si tratti di un work. Secondo me la WWE ragazzi non ha sbagliato, perché la WWE ha messo sotto contratto queste persone e in teoria viene quando sei sotto contratto, e tu accetti quei termini, puoi fare, cioè devi fare quello che dicono loro. Dal punto di vista aziendale, la WWE ha messo le mani avanti, ha fatto bene a fare quello che ha fatto, onde evitare un punk 2.0. Su questo non ci piove. Logico che dispiace quello che è successo, dispiace se ci siano stati dei dissidi dal punto di vista creativo, girano voci che Sasha Banks, lei era stato promesso il many event di Press'Hermania contro Charlotte, Naomi che avrebbe dovuto vincere il titolo femminile di Raw, io a queste stronzate non ci credo, posso credere magari a Charlotte contro Sasha, a quello sì. Vabbè, lì purtroppo... Ma perché la direzione era stata fatta in quel modo lì. Ma è subentrato il fatto di cosa? È subentrato il fatto del matrimonio di Charlotte? Quindi che cosa vanno a riempire? No, 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 secondo me non è neanche quello. Secondo me, intanto un saluto a Massi, secondo me ciò che ha cambiato un po' lo scenario è stato il fatto che, come si chiama, si doveva dare un altro Press'Hermania moment a Bianca Belair. E quindi hanno scelto di vincere il capitolo Bianca Belair-Becky Lynch. Su questo a me spondi una porta aperta, perché per me Bianca Belair-Becky Lynch sarebbe bella. Io sono dell'idea che il piano originale era Ronda Rousey contro Becky Lynch e Charlotte contro Sasha, che si è visto pure a Crown Jewel, è quello che è successo. La cosa è andata scemando, capiremo bene con il tempo perché... Per me non c'è nemmeno stalla, Bianca. Dite che ha sbagliato anche la WWE, la WWE avrà sicuramente sbagliato nel dare certe promesse e nel non mantenerle. Se è così, questo è reale. Però a me non mi pare che Sasha Banks abbia avuto dei dissidi o delle scontentezze negli ultimi tempi, dato che sui social era sempre molto attiva, molto scherzosa, molto sorridente. Posso fare un intervento molto pesante? Vai, vai, così poi chiudiamo. L'intervento molto pesante è, ragazzi, Sasha può essere brava quanto vogliamo, però, e mi duele dirlo perché è un qualcosa veramente di pesante, Sasha è una raccomandata del cazzo. Ragazzi, Sasha fosse stata un'altra persona, l'avrebbero licenziata già da tempo. Purtroppo lei è nipote di Snoop Dogg, o cugina, non ricordo, e Sasha deve stare dentro, ragazzi. E non è la prima volta che succede una cosa del genere. Perché? Perché una come Sasha, una come Sasha, che si è lamentata, cugina, ecco, grazie Luca, una come Sasha, con i comportamenti che stava avendo all'interno del backstage, che non ha avuto nemmeno Charlotte, sarebbe stata già licenziata. Se quello che lei ha fatto sotto Covid, essendo lei una Novax, un'altra persona con un trattamento simile non l'avrebbe avuto, ed è continuato a stare dentro. Le hanno dati i suoi regni titolati, certo, fatti perdere dopo una giornata, però gliele hanno dati. Ragazzi, purtroppo, Sasha, lì dentro, sta per situazioni che vanno un po' oltre il coso. Finisce di nuovo nell'it del backstage da WWE dopo Raw. Com'è giusto che sia questa notizia che potete trovare su worldbressing.it. E poi, ragazzi, con tutto il rispetto, anche un po' d'umiltà, Naomi può dire quanto vuole, ma Naomi, se è campionessa... Naomi, sinceramente, è probabilmente quella con meno qualità in ring di tante altre. Probabilmente anche Carmella le sta avanti, e io sono uno che non è proprio un grande fan di Carmella, anzi, in particolare per le uscite che fa molto spesso. Abbiamo Lucas Velsa che ci dice, ma io scuso la teoria del work dopo il post della WWE, credo invece che erano molto delusi dal cambio dei piani, dalla poca considerazione delle loro cinture, poca considerazione che c'è sempre stata since day one. Ma soprattutto perché quelle cinture nemmeno ci dovrebbero stare là dentro. Di conseguenza sono venute ad incappare ad un atto di poca professionalità. Capitano Buggy, il casino è successo perché le due da parte di chi scrive le storyline dovevano andare una contro la camionessa di Roe, l'altra camionessa di SmackDown, sminuendo poi i due di coppia femminile. Ma l'hanno sempre fatto, ragazzi, l'hanno sempre fatto. Gioda, però, mi sembra strano che Naomi si metta a seguire Sasha dopo anni che Naomi è stata trattata male dalla gestione. C'è un ultimo tweet in riferimento alla Wrestling Observer Radio di Dave Meltzer e Brian Alvarez dove viene citato Roman Reigns che oltre che essere uomo di punta della federazione è anche uomo di punta nel backstage WWE. Sembra che la WWE abbia chiesto a Roman di dialogare sia con Sasha che con Naomi per convincerle a tornare sui propri passi onde evitare cose un po' alla punk. Poi c'è un'altra situazione. purtroppo quando si sente la puzza di cinema tutti cominciano ad aprire gli occhi e ad attizzare le antenne. Vabbè, Naomi non becca neanche l'odore di un'altra cosa che non si può dire onde evitare di chiedere il canale. Sasha sì, però il discorso è questo. Non puoi star zitto quando è tutto rosa e fiori come dici tu e dopo ti metti a fare le biz quando magari per qualche mese vieni parcheggiato in una situazione di secondo piano. Ripeto, io ho sempre pensato che magari sia stata anche lei a dare l'input di mettersi un attimo in secondo piano proprio perché ha questi impegni cinematografici. Poi vedremo insomma se è così o no. Mi viene da pensare onestamente che questa situazione si sia creata solo ed esclusivamente in merito a quanto successo nel backstage di Raw. perché guardando i suoi movimenti nei vari backstage con le sue storie in Instagram eccetera eccetera non mi pare di vedere una Sasha scontenta come invece è successo tre anni fa quando perse il tiro di coppia a Versa Mena 35 dove c'eravamo anche noi e si parlava addirittura fecero un video teasing la All Elite con Brandy Rhodes che si fece le mesh come Sasha Banks per far parlare Sasha Banks va in All Elite invece vediamo un po' cosa succede. Anzi. No no anzi cioè mai come adesso stavano avendo una storyline perché stavano portando avanti beh in un certo senso i Doudrop e Mickey Cross perché secondo me degli a poco anche qui tra l'altro Mauri Malma scusate Neyomi cosa da lamentarsi ma questo lo lo diciamo anche noi cioè rispetto al boom di un po' di tempo fa che giocava cioè alla fine Neyomi una volta che si è presa la sua rivincita contro Sonya Deville cioè come dicevi te no mi ha sentito puzza di oro e cioè dalla famosa title shot che le dovevano il rematch e così dovrebbe ringraziare perché secondo me lei insieme a Bianca Belair insieme a tante altre sono quelle persone che dentro il backstage ci stanno per far numero con tutto il rispetto per loro perché magari si impegneranno più che altro ci stanno perché hanno anche magari a parte Bianca Belair che Bianca Belair è una che comunque sul ring qualcosa di buono lo fa e dal punto di vista l'età dal punto di vista di merchandising riesce a fare roba buona cioè loro ormai inutili a dire stanno puntando su Bianca Belair come se fosse la gionsina delle donne sì e soprattutto anche perché fa forza su una una parte molto importante che è quella della parte afroamericana sì sì continueranno a fare così molto più di cosa come per esempio continueranno a puntare magari su Rack Rodriguez che è andato lì proprio per andare a far forza sulla parte latinoamericana ma sì ma sì poi vediamo insomma però ovviamente di sicuro noi giovedì con quello che sarà l'episodio 195 insieme al prof perché io sarò al lavoro vi parleremo un attimo meglio della situazione perché approfondiremo meglio il tutto per ora quello che posso dirvi è di restare sintonizzati su WorldBrestling.it e di capire un attimo meglio tutte le circostanze e soprattutto capire se effettivamente già per venerdì a SmackDown ci saranno delle novità ecco mettiamola così ma anche soprattutto rimanete sintonizzati sempre su WorldBrestling.tv perché tanto qualcuno che ne parli c'ha sempre tra l'altro questa sera c'è il Big Red Machine c'è il Big Red Machine Adriano Paduano quindi vedremo un po' cosa cosa verrà fuori anche nei ragionamenti dico solamente a Capitano Baggi che ha detto per voi come si può ricomporre l'ha appena detto il messaia è stato messo in mezzo a Roman Reigns che comunque può fare può dare un aiuto una mano e vediamo un po' se questi titoli verranno resi vacanti o meno non penso ancora bisogna aspettare poi sai se li fanno rendere vacanti a Laurina probabilmente dovranno prenderli le bellas quindi ah 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 meglio cancellarli dai ecco ecco decisamente prof ti ringrazio per grazie a te messaia grazie soprattutto per i regali per averti rivisto per averti riabbracciato e speriamo speriamo di rifare tutto quanto prima ovviamente che sia o non per uno show di wrestling quindi grazie poi ad Alessio Di Nicola Antonio Diego Piacentini a tutta l'organizzazione della IPW ed IWA per lo show della scorsa domenica al quale abbiamo assistito dal vivo davvero bellissimo spettacolo vi consigliamo di tenere d'occhio queste due realtà e sui social su tutte le loro piattaforme insomma e ovviamente anche sul nostro sito dove io almeno cercherò di curare il più possibile appuntamento a giovedì per il prossimo episodio del Pro Wrestling Council where the big boys play domani next big thing domani next big thing alle ore 19 e intervista con Rachele alle 21 con le due atleti della Dynamics Sicilian Wrestling ok questo per quanto riguarda Open Wrestling TV tutto quanto per quanto riguarda invece il Pro Wrestling Council ricordatevi che ci potete trovare ovunque piattaforme podcast youtube su Google and Dono qui su twitch grazie ad Open Wrestling TV su world wrestling.it e ovviamente in radio grazie alla stazione radio web radio libera quindi grazie a tutti grazie a voi tutti grazie anche a Joda ci vediamo alla prossima a giovedì per il PWC certamente maurimalle grazie mille e tu sweet tu sweet tu sweet quote the culture never more grazie a tutti